Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4 o PS5, potete contattarmi su uno dei miei social sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti ragazzi, in questo video volevo informarvi che Rockstar Games ha esteso il pass di Halloween e tutti i bonus e i vantaggi dell'evento di questa settimana. Poco fa Rockstar Games sulle site Rockstar Newswire ha pubblicato un nuovo articolo intitolato Il pass di Halloween è stato esteso per tutto novembre. E leggendo ciò che Rockstar Games ha scritto in quest'articolo, il pass di Halloween di Red Dead Online è stato esteso fino al 30 novembre, che sarebbe lunedì e anche l'ultimo giorno di questo mese. Potrai sbloccare oggetti, filtri, sfondi per lo studio fotografico e altri fantastici articoli sopranaturali. Non te lo perdere, potrai avere ricompense incredibili e spaventose, come il macete Zavala e altri oggetti degni delle leggende e delle storie dell'orrore raccontate intorno al falò. Inoltre, tutti i bonus e vantaggi di questa settimana in Red Dead Online sono stati estesi fino a lunedì 23 novembre. E niente rocchetti, come sempre, se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, ve le porterò sul canale. Nella descrizione di questo video, lascerò il link del video di tutti i bonus e vantaggi presenti in questo evento che sono stati estesi, che ho caricato ieri nel canale. Come anche il link dell'articolo di questa notizia, della site Rockstar Newswire, dove se volete potete darci un'occhiata anche voi. Prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi niente rocchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Se siete su PS4 o PS5, vi invito ad entrare nella mia community, Orc Verde Gamer, tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video. Così come anche tutti i link dei miei social dove vi invito a seguirmi. E da Orc Verde, tutt'ora ci ne ho, al prossimo video, bella! Grazie!